Un altro grande artista che ha condiviso partecipazioni a Sanremo e tanti concerti in giro per l'Italia. Tu pensa che lo chiamano il principe? Ma pensa. Non lo sa. Ha già capito. Però per tutti lui è Maurizio Vandelli. Eccolo che arriva. Buonasera Maurizio. Ciao. Maurizio. Maurizio chiude questa serata con due grandissimi brani. Il primo è 29 settembre e per concludere ho in mente te. E poi c'è un altro cosiddetto dopo. Poi c'è una sorpresina dopo. Grazie. Ciao Ne. Ciao Ne. Dai lo lasciamo alla sua opera. Signori e signori, Maurizio Vandelli. Buonasera. Ciao Marina. Ciao Nicola. Allora, faccio questi due brani, poi facciamo un brano dove verranno fuori anche i cama, credo. E cantiamo una cosa da pelle d'oca e con la base perché qualcuno manca. Bene, buon divertimento. Vai! Sei giunto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me, guardavo il mondo che girava intorno a me, poi mi provviso lei, sorrise, e ancora prima di capire. E mi ritrovai sotto braccia, dai stretto, come se non ci fosse anche te. E mi ritrovai sotto braccia, dai stretto, come se non ci fosse anche te. E mi ritrovai sotto braccia, dai stretto, come se non ci fosse anche te. E risopera di come se non certo. E mi ritrovai sotto braccia, dai stretti, dai Oggi il 30 settembre. E' un'està lento e corredì al telefono. Ma tu dì che tutto non sai da il vento. E' un'està lentura, non sai da il vento. E' un'està lentura, non sai da il vento. E' un'està lentura, non sai da il vento. Grazie.